L'acqua siamo noi è il tema di riflessione in occasione della giornata mondiale dell'acqua che si svolgerà domenica a partire dalle ore 10 alla sede documentale dell'ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po a San Matteo delle Chiaviche, un evento promosso dalla comunità laudato sia Oglio Po insieme alla locale condotta Slow Food al distretto bio Casalasco via Danese e all'associazione Noi Ambiente Salute. Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare le istituzioni mondiali e l'opinione pubblica sull'importanza di garantire l'accesso all'acqua a tutta la popolazione mondiale essendo un diritto umano strettamente collegato ad ogni aspetto della vita. Il tema di questa edizione è Acqua per la Pace. Gli impatti dei cambiamenti climatici, l'aumento della popolazione rendono infatti urgente unire le forze per proteggere e conservare la risorsa più preziosa, l'acqua appunto. La nostra stessa esistenza dipende da un equo ciclo dell'acqua. Dobbiamo imparare perciò, spiegano gli organizzatori, a condividere questa risorsa vitale per la nostra salute, l'agricoltura, l'economia, l'energia e l'ambiente. Il programma a San Matteo domenica si articolerà in varie fasi. Alle ore 10 alle ore 11 le visite guidate all'impianto idrovoro di San Matteo e l'approfondimento sulla storia idraulica e sulla bonifica del territorio all'interno della sede documentale dell'ecomuseo. Alle 12.30 la possibilità di un pranzo frugale con prodotti del territorio. Alle 14 l'inizio dei laboratori per famiglie e ragazzi sul tema dell'acqua utilizzando materiali di recupero ingegno e fantasia. Alle ore 16 l'inizio delle relazioni a cura del dottor Fabio Severi del tavolo del Mincio e del dottore Remo Valsecchi giornalista di Altra Economia. Ci sarà anche il collegamento da remoto con un rappresentante delle mamme NOAP FAS del Veneto. A seguire la proiezione del video sulle strade dell'acqua realizzata dal gruppo giovani I Vecchi Angeli in collaborazione con noi Ambiente Salute.